Alupi Turn Nuovi inserti ISCAR bilaterali rettificati, lappati e superpositivi per lavorazioni di alluminio e materiali non ferrosi. ISCAR ha introdotto i nuovi inserti bilaterali con quattro taglienti per finitura e lavorazioni medie. I nuovi inserti assicurano un'alternativa vantaggiosa agli inserti ISO convenzionali con due taglienti. Gli inserti bilaterali CNGG, CNGX, DNGG, WNGG e TNGG lavorano allo stesso modo degli inserti positivi con le stesse peculiarità del tagliente affilato, ma forniscono il vantaggio ulteriore del doppio dei taglienti. Caratteristiche degli inserti Tagliente rettificato ultraaffilato Superficie lappata per eliminare il tagliente di riporto Inclinazione radiale molto positiva La geometria ottimizzata, unita all'innovativo concetto A4 taglienti, ha creato una soluzione vincente per la lavorazione di alluminio e di materiali non ferrosi. Inserti Alupi Turn con geometria F3N per finitura I nuovi inserti sono dotati dell'esclusiva geometria F3N progettata per lavorazioni ottimali di alluminio con ottime finiture superficiali. Inserti CNGX Alupi Turn con geometria M3N per lavorazioni medie Gli inserti CNGX con geometria M3N sono progettati per lavorazioni medie di alluminio e altri materiali non ferrosi. Questi inserti sono dotati di taglienti elicoidali che permettono elevate profondità di taglio con elevati avanzamenti. I nuovi inserti si montano sugli utensili standard Flash Turn per lavorazioni interne ed esterne. Tutti gli utensili sono dotati della tecnologia Iskar Jet Cut con refrigerante direzionato esattamente sul tagliente per un taglio più dolce e maggiori durate.